Il ministro dell'agricoltura Stefano Patuanelli oggi pomeriggio ha visitato la sala aste del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. Accompagnato dal direttore del mercato Emanuele Mazzaro, il ministro ha potuto toccare con mano una delle realtà del settore ittico più importanti a livello nazionale ed europeo. Presenti anche il sindaco Alessandro Ferro, l'assessore Daniele Stecco e la consigliere regionale Erika Baldin. L'arrivo del pescato e l'inizio dell'asta sono stati osservati con attenzione da Patuanelli, compresa la famosa asta d'orecchio, ovvero l'offerta dei compratori ai broker per il prezzo del pesce da acquistare. Poi la visita alla marineria di Chioggia, una delle flotte più importanti dell'Adriatico, dove il ministro è salito in uno dei pescherecci. Il direttore Mazzaro ha esposto quali siano state le innovazioni portate in questi anni al mercato ittico, ma pure quali le problematiche da affrontare nell'immediato e in prospettiva futura, a partire dalla richiesta di riduzione ulteriore delle giornate di pesca proposta dalla Commissione europea. Infine, l'invito agli stati generali della pesca che si terranno questo inverno a Chioggia, per i quali Mazzaro è incassato il sito al ministro.